Andrà in scena venerdì 29 aprile al Maruccino lo spettacolo Alice, liberamente tratto dal libro di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Una produzione dell'associazione teatrale Shakespeare in Sneaker. Uno spettacolo dal forte impatto visivo, scenografie ridotte al minimo per lasciare che siano le performance a riempire la scena, luci, colori e intensità che conferiscono un maggiore impatto narrativo. La sensazione di precarietà, incertezza, paura e claustrofobia che ha investito il mondo ha sicuramente contribuito alla stesura di un'opera drammaturgica a tratti estenuante, in cui il dissidio umano e lo sconforto la fanno da padrone. Pur essendo uno spettacolo psicologico e sociale, Alice è anche e soprattutto un'elegia di rivalsa, una poesia delicata d'amore e di bisogno. Liberamente tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie attraverso lo specchio di Carroll, ma riadattato, tanto che la mia Alice è ambientata in manicomio e lei è affetta da un disturbo dissociativo dell'identità. Il cappellaio matto è affetto dalla sindrome di Tourette, quindi ogni personaggio ha un contraltare nel mondo reale e quindi rivisto in un'altra dimensione diciamo che vengono acuite tutte quelle patologie che se uno leggesse il libro di Carroll a livello psicoanalitico verrebbero fuori. Da dove nasce l'idea di dedicare proprio una stesura di un'opera teatrale a una storia così conosciuta? Mi piacciono le sfide, mi interessava appunto lavorare sulla diversità, sulla malattia e diciamo che il periodo di lockdown, di paura, di confinamento a livello globale mi ha portato quindi a fare i conti con le paure profonde e mi ha suggerito questo testo. Ma per il tema trattato e il linguaggio utilizzato lo spettacolo non è adatto ai minori di 14 anni. Dobbiamo senz'altro avvicinare i giovani al mondo del teatro, del nostro teatro e quale migliore occasione che una produzione così importante di una teatina doc come Veronica Pace con degli attori teatini che recitano per uno spettacolo che sta facendo il giro dell'Abruzzo molto apprezzato e che quindi era giusto che avesse come tappa importante anche il nostro teatro marrucino. Grazie.